Proprio perché siamo in un momento decisivo, io non so fino a che punto la classe politica italiana abbia capito quanto decisivo è questo momento, non c'è bisogno di qualsiasi governo, c'è bisogno di un governo all'altezza della sfida. Quindi noi diciamo semplicemente, non è che in un momento del genere ci deve essere qualsiasi governo e chiunque lo mette in discussione è uno sporco traditore, uno che pensa alle sue poltrone. Aspettiamo di vedere la nuova bozza di PNRR, perché non è che possiamo basarsi su abbiamo cambiato, tranquilli, allora grazie, lo vorremmo vedere prima, non ce l'hanno ancora mandato, quando ce lo mandano passiamo qualche ora a studiarlo, perché noi siamo gente all'antica, facciamo così, e vediamo che cosa c'è scritto nel merito. Noi abbiamo presentato 62 proposte di merito, non è che abbiamo detto Conte non ci piace come sei pettinato, abbiamo detto ci sono dei problemi perché siamo in una fase che questa Repubblica non ha mai vissuto e vogliamo che venga gestita al meglio. Il governo ha detto di aver cambiato questo piano, che evidentemente tanto bello non era, volevano farlo approvare tra domenica notte e lunedì, l'8 dicembre, vorrei ricordare anche questo. Vediamo che cosa c'è scritto e discutiamo nel merito. Noi siamo di quelli che pensiamo che la politica si faccia così.